we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ultimo video della sfide dalla settimana numero 4 ci chiede di collezionare gli anelli a parco pacifico come vedete ragazzi il primo anello era proprio alla base della zipline alle mie spalle prendendo la zipline e proseguendo tutto il tracciato raggiungerete la pala eolica e sulla pala eolica guarda un po c'è proprio il secondo anello una volta che l'avrete preso non dovrete fare niente di strano vi basterà semplicemente andare di nuovo per il percorso della zipline che vi porterà alla successiva pala eolica e guarda un po c'è proprio il terzo anello forse avete già capito anche la posizione del quarto è veramente semplicissimo prendendo l'ultima porzione di corda arriveremo in fondo dove troveremo appunto il quarto anello insomma ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche oggi tutte le soluzioni alle sfide della settimana numero 4 mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su iscrivetevi al canale e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao